1740 break di Musetti Lazzurro va a servire per il match break di Lorenzo Musetti nell'ottavo game del secondo set Lazzurro, vittorioso nel primo set. È ora avanti 53 nel secondo contro Barrere e servirà per il match 1734 Musetti-Barrere 43 nel secondo set ancora nessun break nel secondo set del match tra Musetti e Barrere il punteggio e 43 per le Azzurre, che non sono riuscite a sfruttare una palla break nel sesto game. 1720 Musetti tiene il servizio e si porta sul 32 nel secondo set del match contro il francese Barrere. 1717 Musetti-Barrere 22 nel secondo set L'equilibrio non si spezza nel secondo set tra Musetti e Barrere dopo il primo set vinto dalle Azzurre niente break e punteggio sul 22. 1712 Nessun break nel secondo set Musetti avanti 21 dopo la maratona primo game, sono stati più veloci i successivi due del secondo set, che ha visto prima Barrere e poi Musetti tenere il servizio Lazzurro, vincitore primo set, ora conduce 21 sui francesi. 1705 Musetti annulla 6 palle break Barrere in segue nel secondo set dopo aver vinto il primo set contro Barrere, Lorenzo Musetti parte bene anche nel secondo, ma fatica nel lunghissimo primo game Lazzurro salva 6 palle break e riesce a mantenere il servizio in vantaggio, passando sul 10 contro i francesi. 1645 Musetti-Barrere Lazzurro vince il primo set secondo break per Musetti che vince così primo set contro Barrere il francese, sotto 1540, salva la prima palla break ma non la seconda e Lazzurro chiude quindi primo set sul 63. 1640 Musetti-Barrere 53 per le Azzurre nel primo set sia Barrere che Sinner tengono servizio nel primo set il risultato è 53 in favore delle Azzurre, che avevano trovato break nel quinto game. Ora avremo bisogno del francese. 1634 Musetti-Barrere tiene il servizio 42 su Barrere dopo aver annullato un pallone in contropiede. Musetti-Barrere tiene il servizio e si porta in vantaggio sul 42 nel primo set del match contro Barrere. 1625 Musetti-Barrere E poi il break 32 su Barrere accelerazione di Musetti nel match contro Barrere l'Azzurro tiene il servizio e poi trova il break. Portando i francesi sul 32 nel primo set 1616 nessun break in avvio Barrere avanti 21 su Musetti avvio equilibrato nel match tra Musetti e Barrere il francese e avanti 21 nel primo set contro il 21enne Azzurro. 1611 Barrere tiene il servizio 10 su Musetti e Barrere a servire per primo nel match contro Musetti il francese approfitta del suo turno di battuta e vince il primo game, siglando L10. 1607 riscaldamento per Musetti e Barrere Musetti-Barrere si stanno riscaldando e poco inizierà la sfida tra i due in palio il pass per i quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda, chi vincerà affronterà la vincente del prossimo match il ceco le hecca l'Americano Tiafoe. 1602 ora tocca a Lorenzo Musetti, che negli ottavi di finale di Stoccarda ha colto la prima vittoria su Erba in carriera superando il croato Bornagoyo e presto sfiderà Gregoire Barrere agli ottavi. Il ventenne francese si preana.